ho messo già nel discorso agli euro 11 e 30 Enzo dammi una mano, l'ho promessa a 9 quella non mi sposate eh, ma lui non mi sposate eh, c'è, perché ci vuoi ti ricordo di Enzo, nella vita sto facendo questione di volontà solo di volontà eh, tutto questo è di volontà diciamo una poca, adesso con la cina e il fumo e faccio vediamo che fai per il top di no, di no, di no, di no, di no, di no, di no forza ragazzi con queste scale al fuoco, al fuoco a visiteroni, a visiteroni a visiteroni, fuoco dai, fuoco dai, fuori dai, fuoc dai, fuori dai ah, ci a posto vado, vai, vai vabbè, non pari i tuoi ballati guardate te del dedo, grazie non ho fatto ah, non pari è fatta, come va? si è Non ci fai però! Non ci fai però! Oh, oh, no, da qua! Da avanti! Avve quindi sei la luce! Ah, forza, faccia il muro, faccia il muro, faccia il muro, faccia il muro. Faccia lì il muro, faccia il muro. Vai, vai, va, va, va. Favorisci agli indurenti, favorisci agli indurenti! Non vai indurenti? Indurenti, favorisci agli indurenti. Sì, sono notati! ehi oh oh questo è ortaggio pubblico ufficiale ortaggio pubblico ufficiale oh no ortaggio oh no no ortaggio pubblico ufficiale ah sentite non mi fate perdere tempia bollo patente e libretto ma che cosa bollo chissio bollo bollo patente e libretto bollo patente e libretto ah sentite non mi fate perdere tempia ma ci ammi sei bollo collega oguto dite appuntato si è rotto insieme a prenderci tra allora giovinastro giovanotto oi quale la volta le bacio lì ecco l'è che spettacolo ma questa è la mamma doveva cacciare l'aria ma non mi convendono qui ma su un po' grazie allora tu sai che scherzo righi no lo sai se la soluzione quindi si dicono tutti così come si chiamano tutti come si chiamano tutti come si chiamano tutti come si chiamano tutti Enzo Righi nato a Napoli nato a Napoli ah Napoletone sono nato a Napoli tu sei Napoletone fammi vedere un po' wreckare e dai 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 eeee se non ci possono farlo, questo non è la cucina, e per me? chi l'ha detto che non ci possono farlo? prega, come va? al numero 2 prega, come va? è finita la mozzarella mettici la prova è finita la prova non ce la mettere è finito il pomodoro non ce lo metti è finito pure la prova aspetta, passate ora adesso per favore chman e finita lo fatti è finito ora si avrai un po' il problema allo tempo per favore fino a le chiave a manda sui bianchi a manda sui bianchi no, ma cheuet ma chea, mi sono a mezzo la vecchia a manda sui bianchi ma… margherita buon aperito mangia piante scotta muovi che si lavora e non lo vedi che il signore sta mangiando e non lo vedi che il cattino è finito share